Allora, ora Carlos, una gara incredibile, insomma, sei stato protagonista sin dall'inizio alla fine e sei stato protagonista anche dopo la gara. Cosa è successo? Sì, no, era... stava saporendo la gloria, però subito ho tornato alla terra. E niente, c'erano un po' di tifosi lì, ho andato a prendere la bandiera, ho dimenticato che c'era il fango, è proprio ciboloso. E quando era lì non ho potuto fare niente, ho cibolato un po' davanti, cazzo in terra, ho fatto una figuraccia, però vabbè. È stata forse la caduta più allegra della mia vita, caduta diciamo, alla fine niente, tutto risolto. È stata una gara buonissima dall'inizio alla fine, non è stato facile, ho preso un po' a primi giri il mio tempo per capire un po' il grip, l'atterenza, capire anche la moto perché non era proprio uguale dopo il test di ieri imbagnato, però alla fine il ritmo, la velocità è tornato e è riuscito a fare la differenza, è una vittoria fantastica. Senti, adesso ci sono 46 punti che ti dividono da Melandri, di fatto una gara dove i tuoi avversari non hanno concluso niente e adesso c'è gara 2, quindi un vantaggio da implementare ulteriormente. Sì, ancora è troppo presto per guardare il campionato, guardo la gara e a medida che va avanti il campionato dopo vediamo, arriveranno delle gare molto difficili come è successo a Monza, abbiamo fatto fatica a stare i primi dieci, può capitare tutto, oggi non sono stati fortunati loro, noi sì, tecnicamente credo che qui era favorevole a noi e sicuramente arriveranno delle gare che avremo più difficoltà a noi. Per quello che non si possiamo fidare, ricordiamo che aveva 90 punti di vantaggio e alla fine non aveva potuto vincere il mondiale, per quello che calmo è pensare gara a gara.